Appena adesso abbiamo concluso una riunione, un'assemblea in realtà allargata agli studenti, ai docenti e a tutti i genitori perché volevamo proprio rassicurarli sullo stato reale dei fatti della nostra scuola. In realtà la scuola ha subito dei danni ma non così eccessivi e sono soltanto dei calcinacci che sono caduti da un corridoio. Avremo la chiusura di tre aule, quindi con la dislocazione di due classi abbiamo già trovato la sistemazione all'interno della scuola. Per il resto proprio questa mattina abbiamo avuto un controllo da parte dei vigili del fuoco che è seguito a quello già fatto in questi giorni dai tecnici del comune e dai tecnici della provincia. Quindi ci sono stati dei controlli quotidiani, veramente quotidiani, dalla prima scossa del 26 ottobre fino ad oggi, fino a questa mattina. Devo dire che le notizie sono soltanto rassicuranti perché la nostra scuola è sicura, ha retto bene e quel disagio che comunque durerà per circa un mese è comunque già stato risolto. Assolutamente da lunedì, quindi i nostri ragazzi sono stati informati e da lunedì inizieremo proprio con una prova di evacuazione proprio per mettere tutti al sicuro.